Siamo facendo il tuo lavoro di casa. Il professore ha detto che dovessi fare tutti gli esercizi del libro di geometria per avanti. È 431 pagine di esercizi, ma siete confidenti che lo puoi fare. Hai il tuo calcolato meccanico. Niente è impossibile con il tuo calcolato. Sempre prendete il tuo calcolato quando fai a scuola, lo usavate durante il lavoro di classe, e l'avete sempre stato successivo. Quindi cominciate a fare il lavoro di casa. L'addizione, ovviamente, non è un problema. E' anche la substituzione. È veloce e facile. Multiplicazioni sono la gioia di bambini per il tuo calcolato. Divizioni non sono un problema. È già esplicitato come fare in un altro video in questo canale. Quindi fai tranquillamente, pagina dopo pagina, usando il tuo calcolato meccanico per affrontare con addizioni, attrazione, moltiplicazioni, divisioni. In fine, con l'aide del tuo calcolato, arrivi alla ultima pagina del libro di esercizi. C'è una ruta del quadro. Nel tuo calcolato non c'è questa funzione. Non puoi finire il lavoro di casa. Non lo faranno durante il anno scuola. Saranno reagiti e esplosati dalla scuola. Non troverai mai un lavoro. Ma pensi che il tuo calcolato ti metterà in problemi dopo averci preso alla ultima pagina del libro? Sei sicuro che il tuo calcolato credito può fare ruttori? Inoltre, il tuo calcolato può ancora aiutare a te. Vediamo come puoi fare ruttori con il calcolato meccanico. Ci sono molte mani. Vi vedremo uno, usato su Fiden calcolato originale. La teoria è abbastanza complessa. È basata su una metoda vecchia scuola che, magari, fu raccontata a voi a scuola, adattata sul calcolato. Vi vedremo solo il strato particolare. Possiamo calcolare la ruta del quadro di 625. Prima di tutto, dobbiamo moltiplare 655 per 5. 3125. Riesi il calcolato. 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 I starto subtractando, da parte, 5x100, poi 15x100, poi 15x100, fino a possibile. Quindi, 500x15x100. Dopo due operazioni, non è possibile subitare il calcolato. Quindi, il primo numero è 2. Io muovo il calcolato. Ora, dobbiamo moltiplare questo numero, 2, per 100 e aggiungere in sequenze, 5, 15, 25, 35, eccetera. Poi, subito questi risultati in numeri. 25, 215, 225, 235, 245. Ora, ci sono tutti 0 e la calcolazione è finita. Abbiamo 5. Quindi, il risultato è 25. Ruttore di 625 è 25. Una volta la ruttore ruttore di 1156. Ruttore di 5, quindi 5780. e inizio subito 500, 1500, 2500, il numero numero è 3, e rimuovo il caraggio. Usiamo la stessa operazione, ma con il 3, 305, 315, 325, 335, ci sono tutti 0, la calcolazione è finita, e il ruttore di 1,156 è 34. Sei sicuro, puoi finire il tuo lavoro di casa, dopo la scuola avrai un lavoro buon lavoro, un grande caro e un cat. Il tuo calcolatore meccanico non lo farà mai solo.